un saluto a stigione benvenuto su i music fan ciao 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 a tutti un piacere essere qui è un piacere mio piacere nostro anche perché sarremo giovani si avvicina come ti stai preparando e cosa rappresenta questo primo traguardo questo primo progetto nel nel tuo percorso artistico è un grande una grande opportunità un grande palcoscenico in cui poter portare tutto quello che ho da dire quindi mi sto preparando mentalmente ma non vedo l'ora che che arrivi la serata e godermi insomma tutte tutta l'emozione di quella sera porterai sul palco un brano dal titolo se fossi felici ci racconti come è nato questo pezzo e perché pensi possa essere adatto in un contesto come saremo giovani allora secondo me questo brano può essere adatto per il contesto perché porta una tematica importante che quella proprio del del ragionare su noi stessi e ragionare su quelle che sono le nostre le nostre possibilità questo brano è nato un po in un periodo in un periodo della mia vita in cui mi sono fatto questa domanda molto semplice ossia posso effettivamente essere felice mi mi do questa possibilità io vivo questo contrasto in me stesso tra il personaggio si john e la persona giovanni e diciamo che questo personaggio che mi sono costruito in adolescenza che col tempo ha cominciato ad assorbire molto la persona è molto legato a tutta una serie di vicissitudine esperienze modi e stati di sentire molto pesanti però effettivamente questa canzone cerca un attimo di capire se la persona giovanni può staccarsi da questo personaggio può effettivamente essere qualcosa di diverso certo poi tra l'altro è particolare la scelta anche del tuo nome d'arte perché in qualche modo riprende quello che è il tuo vero nome esattamente è una versione è una versione diciamo migliorata o comunque più definita perché alla fine il mio obiettivo in adolescenza molto inconscio ovviamente però era quello di di trovare una una mia personalità quando siamo in adolescenza che cerchiamo un attimo di capire chi siamo io volevo cercare di essere un qualcosa di più definito è nato questo personaggio e da lì è cominciato questo questo contrasto questo rapporto di amore di odio ma che è fondamentale per riuscire a capire come diventare ciò che sono infatti john sta per giovanni e si sta per maresca che il tuo cognome si riprende perfetto musicalmente diciamo che tu proponi sempre proprio dei brani estremamente particolari perché comunque diciamo che l'alternative rock è un po il genere musicale di riferimento però sono molte le influenze diciamo forse da un opposto all'altro dal metal fino al pop come mai come riesci appunto a a bilanciare questi elementi obiettivamente anche così diversi tra loro ed essere credibile beh cerco di esserlo nel senso che comunque non è non è una strada facile però è quello che sento di fare perché sono condizionato dal dagli ascolti che ho che io ho cominciato a ascoltare musica con nirvana però allo stesso tempo in macchina con i miei genitori ascoltavo elisa in egramaro quindi questo questo lato più più tranquillo e poi suonando appunto nelle nelle band eccetera ho cominciato ad avvicinarmi al metal rock al prog tutti i generi di cui tento di prendere la parte migliore o almeno migliore per me che si avvicina più a quello che voglio dire e quindi si tratta semplicemente di trovare la strada migliore per far uscire quello che ho dentro assolutamente ma tra l'altro appunto tu lo hai anche lo hai anche detto hai delle esperienze di band cosa poi ti ha ti ha portato a scegliere invece una carriera solista e diciamo che io ho sempre avuto questo sogno di con la mia prima band formata 15 16 anni avevo questo sogno di di far diventare appunto questa band una band di di successo comunque di riuscire a lavorare con la nostra musica e poi le nostre strade musicalmente ovviamente sì si sono separate e quindi mi sono trovato un po in questa situazione di aver bisogno di di scrivere di esprimere ma di trovarmi fra virgolette da solo ma è una cosa che mi ha fatto bene perché sono sono riuscito veramente a utilizzare la musica e la mia arte per scavare in me stesso che è la cosa fondamentale del motivo per cui per cui lo faccio certo ma tra l'altro hai più volte detto anche che si john è anche il tuo peggior nemico poi chiaramente in se fossi felice in altri brani affronti temi delicati come possono essere appunto la depressione il disagio interiore e anche l'accettazione di sé ci sono stati dei messaggi che ricevuto perché appunto è stato molto importante questa fase sicuramente per te stesso per esprimere queste sensazioni ma il pubblico come hai recepito c'è qualcuno appunto che ha trovato la forza grazie alle tue canzoni e te lo ha detto diciamo che soprattutto quando ho pubblicato il mio disco che contemporaneamente anche un lungometraggio piano piano ho cominciato a ricevere tutta una serie di messaggi da parte di persone che hanno apprezzato molto la mia totale sincerità nel senso che io mi rendo conto comunque una delle domande che mi faccio spesso perché scrivo in una maniera molto molto personale e non ho non ho paura o timore nel rappresentare anche delle parti molto scomode di di me stesso ma è l'unico modo che che conosco per per scrivere e e quindi mi sono sempre avuto un po la paura di magari scrivere in un modo che va bene per me che me lo ascolto io però insomma magari gli altri non ci si ritrovano in realtà i messaggi che ho ricevuto mi hanno dimostrato che questo andare a fondo in se stessi è fondamentale perché riesce a far compiere lo stesso processo a chi mi ascolta ed è anche il mio obiettivo nel senso che io non non sono nella posizione credo non lo sarò mai di portare delle risposte la mia arte vuole cercare di portare domande e basta io cerco di mostrare il percorso che ho fatto le domande che mi faccio su me stesso e quello che che auspico è che chi mi ascolta chi vede chi fruisce la mia arte faccia lo stesso assolutamente tu hai parlato anche chiaramente della tua passione per il cinema parlando anche dell'album e del lungometraggio beh un'idea tra virgolette folle un'idea creativa folle però decisamente interessante anche perché comunque me ti risalto molto bene che quella che è la multicanalità del tuo progetto assolutamente è semplicemente un'altra un'altra strada per quando quando ho composto il disco sentivo che non era non era comunque abbastanza che volevo dire di più e molte volte solo la musica o comunque solo un'arte non basta per portare tutto quello che hai da dire quindi sono sono appassionato di cinema non sono assolutamente esperto in materia però siamo partiti io e questo ragazzo samuele fabbro che ha registrato le batterie del disco ma aveva cominciato a lavorare anche lui nel mondo del diciamo del videomaking in generale e con una telecamera così ci siamo messi e gli ho proposto questo progetto pazzo lui ha accettato ci abbiamo messo un anno due anni tantissimo tempo perché ovviamente i mezzi erano limitati i soldi ancora di meno però siamo riusciti a partorire questo progetto che spero sia il primo di molti perché mi piacerebbe molto continuare questo modo di insomma di esprimermi tu sei originario di san vito il tagliamento che è un paese in provincia di tordenone adesso vivo a padova però però diciamo che appunto il nord est diciamo a parte qualche qualche esempio piuttosto raro non è così frequente nel mondo della musica secondo te perché è perché per l'esperienza che avuto io non è semplice non ci sono molti posti occasioni situazioni in cui poter poter emergere poter portare la propria musica o la propria arte in generale non ci sono poi le poche cose che ci sono sono molto belle molto ben organizzate però non è semplice perché davvero c'è magari anche poca poca abitudine o comunque fra virgolette cultura nel portare avanti determinate cose però magari col tempo e che questa cosa migliorerà beh tra l'altro ci fu un artista tanti anni fa era il 2000 che portò una canzone intitolata proprio nord est tra i giovani a sanremo si chiamava andrea mazzacavallo proprio una canzone che che parlava delle difficoltà del nord est tanti anni fa tanti anni fa ma cosa rappresenta per un artista della tua generazione in festival di sanremo rappresenta sicuramente la mia percezione è che negli ultimi anni comunque il festival abbia sia riuscito ad abbracciare in maniera più ampia anche magari un pubblico più più giovanile rispetto al passato questa è la mia sensazione c'è molta più attenzione nei confronti del festival magari da parte della della mia generazione e quindi è una grande opportunità per veramente poter poter avere una vetrina e poter dire questo sono io e questo è quello che voglio portare se vi piaccio venite entrate nel mio mondo che che ho molto da dirvi io credo che comunque uno degli aspetti sicuramente più importante della tua presenza tra i 24 e che ci sei non snaturando a te stesso non snaturando il tuo genere perché appunto è un genere sicuramente molto particolare il fatto di esserci arrivato con le tue forze in questo modo credo che sia già comunque una vittoria sia già un primo traguardo assolutamente molto molto bene senti io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica e speriamo di vederci e saremo ringrazio te ringrazio voi grazie mille per l'opportunità mille per l'opportunità Grazie.